Benissimo, sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi per il girone che hanno fatto da imbattuti. Purtroppo volevamo arrivare primi, volevamo fare una vittoria davanti ai nostri tifosi, ma davanti a noi c'era un avversario che si è dimostrato molto forte. Chiaramente abbiamo fatto molto meglio rispetto a San Sebastian. Abbiamo concesso nulla e noi abbiamo avuto le due occasioni del primo tempo e le ultime due dove chiaramente volevamo vincere la gara, però non ho niente da dire ai ragazzi perché abbiamo trovato una squadra molto aggressiva che gioca molto bene a calcio e dove non arriva con quel pressing riesce a interrompere il gioco facilmente. Insomma, hanno fatto delle ottime pressioni, quindi onore anche a loro. È normale che chiudiamo tutti e due a 12 punti, volevamo arrivare primi. Sappiamo che il sorteggio sarà meno agevole, però ci penseremo chiaramente a febbraio. No, è stata una scelta tecnica. Avrei aspettato ancora dieci minuti, però al primo tempo aveva avuto dei valori altissimi, mi aveva lavorato tantissimo Marcus e quindi in quel momento ho pensato di cambiare anche lui, però indipendentemente da un giocatore, da un cambio che ha giocato meno di più. Ho avuto risposte importanti, insomma avevamo qualche mancanza, però i ragazzi hanno risposto bene, probabilmente con Danfris e Pavardi in più. Quadrado avrebbe giocato meno perché è un giocatore che in questo momento non può allenarsi regolarmente perché convive con un problema, però mi ha dato grande disponibilità e lo ringrazio perché ha fatto 95 minuti contro una squadra difficilissima da affrontare. Era la prima dopo tanto tempo e mi ha dato grandissima disponibilità. Ma io penso che la Real Sociedad abbia messo in difficoltà anche Real Madrid e Barcellona, quindi bisogna sempre considerare che si ha un avversario di fronte. È un ottimo avversario, allenato molto bene, con dei bellissimi principi di gioco, però la mia interna non è stata inferiore, infatti sono usciti due pareggi. Probabilmente l'andata è stato un pareggio largo per noi perché avrebbe meritato di più la Real. Stasera, secondo me, anzi, penso proprio di sì, per le occasioni che abbiamo avuto avremmo meritato più noi. Una serata di stimolo, di contentezza, di felicità, di passaggio del turno, di chiudere il Girono in battuti. Siamo tutti felici, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Complimenti alla squadra, complimenti al meraviglioso pubblico a cui volevamo regalare una vittoria che ci avrebbe permesso di arrivare primi. Ci abbiamo messo tutte le forze che avevamo, però abbiamo trovato un avversario di valore, che stasera ci ha impegnato meno rispetto a San Sebastian, però hanno palleggio. Una squadra con delle aggressioni è una delle prime tre in Europa e quando non vengono a arrivare col pressing ti fermano l'azione. Quindi è una squadra che non è semplicissimo giocare, l'abbiamo toccato con mano, ma l'ha toccato con mano tante squadre in questi due anni in Europa. Hanno fatto sei trasferte nel Girono l'anno scorso tra Europa League e Champions, l'anno 25 è la prima che pareggiano qua a San Siro.